Che dobbiamo fare? Nella challenge di questa settimana il talent Mercury 88 dovrà costruire in 60 minuti 6 dinosauri carini e cocolosi Ma non sarà semplice perché ad ogni dinosauro la difficoltà aumenterà Il talent sarà dissorbato da individui poco raccomandabili e dovrà completare tutta la challenge senza mai pronunciare la lettera P Cosa? Voglio portarlo fino all'orlo della pazzia Questa potente dose di insanità mentale vi è offerta da Elbro Production Benvenuti su Master of Challenge E tutto il video non devo dire la lettera A Ma sta pronuncio che succede? Se pronuncerai la lettera P ci sarà una delle seguenti torture Ira di Thor Urlo di Poseidone Furia di Ganesha Sceglini una piccolino La furia di Ganesha mi fa chiedere Che entri il torturatore Ehi Pazzi Ma pure silenziosa che è a me Oh sono addirittura Ah sono pure numerati Guarda aspetta vi faccio vedere Che alzino Ok Istruzione dai 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 Sembra il regnino A1 Vediamo Il video Vi lo so Refritto E' il veloci cattolto Sono troppo piccoli Ok, a due, serve questo Da due No, quello piatto Eccolo Io comunque sfido Chiunque a fare questa roba qua Anzi, se volete Fatemi sapere E' difficile E' un ezzo è montato E' un ezzo è montato Dai, diciamo che sto A buon punto Non è punto detto Il emo L'ho visto al cinema Con mamma e a Ok, oi, esto E questo Queste Facendo parte di E' difficile Concentrarsi Dai che ce la posso fare Questo qua Muove Muove No perché Ma che Ma che Ma c'è No Dai C'è segno Com'è? Niente Dai Una volta che ho visto Jurassic Arc Sono rimasto incantato Perché Steven Sulger E' un genio E' da lì che è venuta un po' La azione Steven si so Icolissimi Guarda Tu dimmi se Se osso Montare In Calquilità Poi Da Come Come Ma Ma Non è che c'ho E' di tatozze E' che E' C'è 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 L'olio Che Raga E' tosta Come andava questo Guarda E' uno Ego dattilo Che carino Eh Eh Ho Detto Primo Dinosauro Completato Evviva E' uno E' fatto Vediamo di rendere le cose un po' più difficili Tipo Vediamo di aggiungere alle tue manine un paio di guanti in lattice Sì Dottrino Aggiungiamo anche un po' di crema mani No questo non me l'avevi detto però Vai Dai Scegli fra le ultime due torture rimaste Urlo di Oseidone Lo stiamo perdendo No Bello Fitti Cazzo Tocco Questi Eh sì E sembra Una Oerazione Chirurgica Lo prendiamo Questo 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 Ok Fuori Tu Verrai Mi stupirò La base c'è Ok Fuori E' difficile E' difficile Attaccà i pezzi I etzi Ezi Ezi Bo Lo sogno stanotte comunque E tx che fa Guarda Guarda quanto c'è il bravo No non è vero Ho finito ho finito Guarda Ho finito ho finito Mi sono montato le zampe a parte Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho guarda Eccolo è un tx Secondo dinosauro Completato Eeeh Ho vinto Rendiamo la sfida ancora più interessante Rimane un'ultima tortura Lira di Thor Lira di che? Lira di Thor Rimangono solo quindici minuti No dai ma come Quando ero ragazzino Mi piaceva tantissimo Giocare A Montare le cose Ah no i etzi I etzi Non c'ho No mai No Ok Da bambino Costruivo tante cose Soprattutto Tu Più forte Così mi fanno più Rimangono solo Dieci minuti Ma come? No dai 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 No dai 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 Sono tutti girati A chi girate? Vi giuro Eeeh E' impossibile Non neanche hai iniziato No stai iniziato Mi hai distratto Ehi Sto sudando Ehi Sto sudando Sto sudando Sono un aglio Non si toglie Non si toglie E' dura Dai 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 E' finito E' finito Posso dire Dai è finito Ho perso Dai posso dire Mamma Dammi qua Divertente Allora Un po' che mi sono sfogato Innanzitutto Volevo ringraziare Pippo Grazie Pippo Meraviglioso All'inizio Era divertente Però poi Non l'è più stato Io non so se l'ho detto Sì Ho capito Nooo E' arrivato Salvo Salutiamo Salvo Ciao Salvo Aia Sai tranquillo Questi sono tutti bloopers Sai tranquillo ma è morto Un po' fattiva Aia Aia Aia